Ha un privilegio il Bitonto e vuole sfruttarlo a tutti i costi, non dover dipendere dai risultati degli altri. Può contare esclusivamente sulle proprie forze la squadra di Massimo Pizzulli nel cammino che porta ai play-off del campionato di Serie D. Può chiudere i conti già domani tra l'altro la compagine Neroverde, che ospita al Città degli Ulivi a partire dagli ore 15 il Sorrento nel penultimo appuntamento della stagione regolare. Un eventuale successo infatti consentirebbe alla realtà del presidente Francesco Rossiello di blindare l'attuale quarto posto in classifica nel girone H e soprattutto brindare alla qualificazione agli spareggi con 90 minuti di anticipo. La puntata numero 33 di questo campionato, oltre alla lotta per i play-off, concentrerà le proprie attenzioni pure sul duello per il secondo posto finale per la migliore posizione all'interno della griglia. A contendersi la piazza d'onore conclusiva sono due formazioni pugliesi, Cerignola e Taranto, entrambe chiamate ad archiviare la delusione per la mancata promozione in C. Traguardo centrato con due giornate di anticipo invece dal Picerno, che sarà di scena proprio al Monterissi contro la squadra allenata da Dino Bitetto. O Fantini secondi in graduatoria, che al momento vantano un punticino di vantaggio sul Taranto e che sono obbligati a conquistare i tre punti per annullare il tentativo di sorpasso degli Ionici. A loro volta dice Nalo Iacovone nell'impegno casalingo contro il già retrocesso Pomigliano. Oltre a Fidelisandria, Gravina intanto c'è un altro derby pugliese nel programma domenicale, lo giocheranno Alvito Curlo, Fassano e Nardò. La matricola di Giuseppe La Terza non ha assili di classifica, i Salentini di Francesco Bitetto invece si giocano le ultimissime possibilità di evitare i play-out. E' l'ultimo impegno esterno di una stagione inferiore alle aspettative invece per il team Altamura di scena sul campo di una Sarnese, già condannata a giocare gli spareggi per confermare la categoria fischio d'inizio su tutti i campi del Girone H. Previsto alle ore 15 alla stessa ora al San Nicola, il Bari farà festa con i suoi tifosi per la promozione in Serie C, ottenuta con due turni di anticipo nove giorni fa a Troina. I biancorossi di Gianni Cornacchini ospiteranno nella passerella di fine stagione il Rotonda, in quella che sarà anche l'ultima esibizione casalinga tra i direttanti, almeno per quanto riguarda il campionato, perché poi ci sarà la Paul Scudetto della prossima stagione, infatti il Bari tornerà a calcare il palcoscenico professionistico.